io nei video non me la prendo con nessuno me la prendo solo con me stesso che essendo quello che sono cioè un tipo normale ho sempre fatto a normalità e questa è la verità la colpa è tutta la mia se sono in questa situazione sì ci sono stati dei momenti abbastanza sereni e di giangolo grazie a tutti